La parola d'ordine è continuare a provare a fare le partite che stiamo facendo, cercando, come abbiamo fatto in ogni partita di quelle che abbiamo fatto, di ottenere il massimo risultato possibile. Nelle volte ci siamo riusciti, altre volte no, però il nostro obiettivo in questa fase iniziale del campionato è provare a dare la continuità che stiamo provando a ricercare e che è determinante per portare avanti quello che vogliamo portare avanti. Sono veramente molto concentrato su questa partita perché conosco le insidie che può avere, sappiamo tutti che tipo di avversario andiamo ad incontrare, da tanti anni propongono quello che propongono, da tanti anni riescono a fare bene in un campionato difficilissimo, hanno tutte le caratteristiche per poter fare una grande partita qui domani. Noi questo lo dobbiamo sapere, ma dobbiamo sapere che siamo anche noi a disposizione delle qualità per poter essere protagonisti nella gara che ci aspetta. Ma non so bene come vogliano ottenere gli altri. La classifica, come ho detto poco fa, siamo alle fasi iniziali, è una classifica che dice e non dice. Ci sono tantissime squadre in pochi punti, bastano dei passaggi a vuoto per ritrovarsi in una posizione in cui nessuno vorrebbe ritrovarsi e basta un pizzico di continuità per ritrovarsi in altre posizioni in cui tanti vorrebbero essere. Ma sono delle posizioni talmente sottili, talmente facilmente ribaltabili che non ha nessun senso guardarle in questo momento. È determinante voler provare a raggiungere risultati, è determinante voler provare a essere protagonisti di questo campionato, ma non è importante guardare in questo momento la classifica perché non credo che sia quella che poi risulterà nel finale. Ma credo che una squadra veramente forte nella partita che abbiamo fatto nel domenica scorsa sicuramente sarebbe uscita dal campo con i tre punti. In questo momento per alcune lacune che abbiamo, per dei lati che sicuramente dobbiamo cercare di migliorare, noi non siamo una squadra forte ma assolutamente vogliamo diventarlo. Per diventarlo ce lo siamo detti e ridetti, io ci credo veramente tanto, non ci si diventa parlandone due giorni e il terzo si diventa una squadra forte, si diventa lavorando sul campo quotidianamente, creando la base per poter essere forti e dando continuità al lavoro e ai risultati che sicuramente fanno sì che aumentino le convinzioni a livello del gruppo. Sappiamo quello che abbiamo sbagliato, vogliamo provare a farlo meglio e cercheremo di farlo a partire dalla gara di domani. Ma a livello mentale secondo lei cosa scatta? Diciamo nel momento in cui manca poco e il risultato è alla portata? Ma non credo sia facile portare a casa il risultato quando in continuazione arrivano messaggi del tipo che è una squadra che sono nove mesi, che non so, ora ho buttato una data, che non vince nove mesi che, nove mesi che, eppure questa squadra in tanti ragazzi non c'erano da nove mesi. Quindi questa è una squadra che da otto giornate, nove, ha giocato quattro partite in trasferta e non è riuscita ancora a vincere. Ma credo che ha fatto le prestazioni che lasciano ben sperare per delle vittorie future. Dobbiamo essere bravi a continuare sotto quel punto di vista, riproponendo quello che stiamo facendo e aumentando la convinzione che non credo aumenti nell'arco di una, due o tre settimane, ma ci voglio del tempo per farlo aumentare. So benissimo che il tempo non è che ne abbiamo in maniera industriale, abbiamo il tempo necessario per poter fare bene. Crediamo che stiamo seguendo una strada in cui siamo convinti che ci porterà a fare dei risultati importanti e vogliamo continuare sotto questo punto di vista.